Io sapete che do una seconda vita alle canzoni, quindi soprattutto insomma rileggo le canzoni, faccio gli omaggi ai grandissimi autori come appunto Pino Daniele, come Nino D'Angelo, un po' la memoria, stasera la memoria, il caldo, insomma, voglio dire può capitare. E quindi tra i vari omaggi c'è questo omaggio che io faccio agli alunni del sole, che è una canzone straordinaria e che poi riascoltare le canzoni, non so se capita anche a voi, ma sicuramente, uno si ricorda in quel periodo lì un amore, uno si ricorda un fatto, e quindi le canzoni ti riportano indietro, quindi è bellissimo riascoltarle, no? Non solo da me ma anche da me. Grazie. Grazie.